Buonasera a tutte e tutti, oggi è giovedì 21 giugno, un nuovo appuntamento per un nuovo Sherwood Open Mind, oggi ci parlerà di storie dentro e oltre i muri, sui sentieri dei migranti verso l'Europa e gli Stati Uniti d'America. Qui con me c'è Riccardo Bottazzo, ciao Riccardo, giornalista e viaggiatore che ha accompagnato tantissime carovane che sono state organizzate sia da Melting Pot che da Ia Bastia di Bese con un nuovo programma che poi ci spiegherà dopo che è Over the Fortress. Io dico giusto due parole per introdurre questo interessantissimo dibattito e anche veramente molto attuale perché poi di flussi migratori e di migranti se ne parla quotidianamente. Si parte dalle arse pianure della Turchia alle verdi valli del Libano dove tu Riccardo appunto sei stato pochi mesi fa, dai deserti altipiani del Messico al Mar Mediterraneo fino ai campi coltivati di Rosarno e questi saranno alcuni dei posti di cui parleremo. Parliamo di tratte, quelle appunto come dicevo prima dei flussi migratori, tratte che hanno una particolarità, una particolarità che unisce e mette insieme quello che succede sia in Europa sia oltreoceno negli Stati Uniti, ossia quello dei muri, dei fili spinati che li abbiamo visti lungo il sud-est della Turchia, il confine con la Siria, è il muro che è meno fisico magari però di Orban che durante la Balkan Route fermò tutti i migranti che arrivavano appunto da paesi più a sud, è il muro che sta cercando di costruire Trump al confine tra il Messico e gli Stati Uniti. Quindi parliamo di storie, di paesi molto diversi ma di storie che hanno una loro similitudine, a volte questa similitudine è anche troppo forte, ossia quello che spinge a queste persone a mettersi in cammino e muoversi, ossia una scelta di fuggire dai propri paesi per tutta una serie di motivazioni che vanno dalle guerre le pulizie etniche, le carestie, i cambiamenti climatici. Sono storie di abusi e violenze ma anche tante storie di resistenza e quindi vorrei partire subito con Riccardo che appunto ha partecipato a tantissimi di questi viaggi spiegandoci anche magari che cos'è un po' Over the Fortress e che cosa lo ha spinto a fare questa scelta. Sì, bene, buonasera a tutte e a tutti, grazie per avermi chiamato, sono veramente felice di essere qui allo Sherwood Festival. Diciamo che il tema dell'incontro che è storie dentro e oltre i muri, sui sentieri di migranti verso l'Europa e gli Stati Uniti, riassume benissimo il percorso che è lanciato da Melting Pot e che abbiamo interpreso qualche anno fa e che abbiamo chiamato proprio Over the Fortress, Over the Fortress oltre la fortezza, oltre la fortezza Europa ma anche la fortezza Stati Uniti, oltre quei muri proprio di cui stanno segnando proprio l'inizio di questo secolo. I muri di cui parliamo naturalmente non sono solamente quelli di mattone, di filo spinato a cui parlavi tu Anne, sono soprattutto muri di politica escludenti, muri anche dentro di noi, muri di ignoranza, muri di paura, se non addirittura muri proprio di vigliaccheria e di infamità, insomma, se vogliamo dare credito a certe dichiarazioni dei notti esponenti politici degli ultimi tempi. Ecco, muri che sono stati alzati tra l'altro con l'obiettivo dichiarato di frenare le migrazioni, ma che invece, se analizziamo veramente la questione, sono proprio le politiche escludenti che hanno alzato questi muri ad aver generato il fenomeno delle migrazioni. I muri, insomma, alla fin fine non sono un freno, ma una fabbrica stessa di migranti, oltre che ovviamente di ingiustizia e di dolore per chi è costretto a passarci a sopra senza documenti. L'obiettivo che ci siamo dati come overforstress è proprio quello di gettare uno sguardo, uno sguardo critico, oltre questi muri, per recuperare quelle storie, quelle narrazioni che non superano un altro muro che è quello dei mass media, quelle che filtrano questi racconti, e anche questi sono muri, quello che pongono i mass media quando raccontano queste cose. Ecco, quindi sono ancora incorati a termini come invasioni, come clandestinità, e usano il metro per raccontare questo fenomeno complesso, quello della sicurezza, della militarizzazione, dei rischi, del terrorismo, metri che sono totalmente inadatti a raccontare una realtà così complessa come appunto quella delle migrazioni. E proprio per questo, per raccontare quello che nessun altro racconta, noi che abbiamo addirittura a questa campagna over the fortress, abbiamo fatto l'unica cosa che dovevamo fare, riempire lo zaino con un sacco a pelo e due magliette di ricambio, qualche volta neanche quelle, perché fare spazio ai computer e alle macchine fotografiche, e metterci in cammino. Ricordiamo che poi over the fortress è nata nel settembre del 2015, grazie all'intuizione di alcuni compagni e alcune compagnie che sono appunto andate a vedere di persona che cosa stava succedendo in Ungheria, e poi hanno continuato a documentare attraverso numerosi viaggi quello che succedeva lungo la Malca Route. È chiaro che poi over the fortress si è anche espansa. Siamo espansi, difatti dopo l'Ungheria, over the fortress ha intrapreso una serie di altri cammini, siamo andati di campi di domeni, di campi di domeni in Grecia con moltissime persone, poi siamo stati fino alla frontiera del Messie con gli Stati Uniti dove c'è quella famosa frontiera che adesso fa tanto gridare lo scandalo perché fanno vedere quei video, sì, terribili, certamente di bambini separati, però era una realtà che si sapeva già prima questa, che la gente fingeva di non vedere, ci sono voluti di video per far capire quello che succede, insomma, quindi anche la narrazione quando è ben fatta, quando racconta le cose in qualche modo riesce a cambiare le cose, insomma, perché alla fin fine, insomma, quello che vogliamo fare con Over the fortress non è solamente quello di collezionare una serie di reportage giornalistici che pure, voglio dire, pure sono importanti perché non sempre queste cose trovano spazio nei mass media tradizionali, è come anche quello di costruire relazioni, promuovere campagne di sostegno, innescare conflitti per la difesa dei diritti, se vi passate adesso nell'allogoria un po' forse un po' udace, noi vogliamo fare benzina, fornire benzina a tutti i movimenti che in Italia, ma come anche nel resto d'Europa e nel resto anche del mondo, ecco, combattono praticamente per i diritti umani contro un capitalismo che sempre ogni giorno che passa è sempre di più simile a una rapina a mano armata, no? Ecco, in questi viaggi diciamo che noi abbiamo fatto anche, insomma, adesso noi vedremo alcuni rappresentanti che parleranno dopo di me, insomma, qui passerò al microfono, ecco, della Tunisia con i migranti fino agli stessi confini interni che abbiamo, perché ci sono dei muri invisibili che non vogliamo vedere, come quello di Rosarno, insomma, degli sfruttamenti di migranti di Rosarno, quello che abbiamo visto, vedendo tutte queste varie, queste diverse narrazioni, diverse storie, diverse persone, abbiamo visto che ci sono sempre dei minimi comuni dominatori in comune, no? Hanno sempre delle caratteristiche in comune, volevo dire, ecco, una soprattutto è quella lì che nessuno si mette in viaggio se non è proprio costretto a farlo, cioè chi si mette in cammino probabilmente non sa cosa va incontro, però sa benissimo che non ha scelte. Questa è una cosa molto importante perché che fa incazzare, mi fa incazzare perlomeno quando sento qualcuno che fa il discorso, aiutiamoli a casa loro, o sei ignorante, o ci fai su, o semplicemente non sei mai stato su un campo profughi, non ha mai parlato con quella gente. È chiaro che adesso parliamo però davanti anche a una società, ne parleremo anche dopo, cercheremo anche di approfondire maggiormente, c'è sempre meno terreno, come dire, sul capire quali sono queste problematiche. È un muro anche questo, è un muro quello che con le nostre narrazioni cerchiamo faticosamente di abbattere. Una cosa e un'altra cosa in comune, oltre al fatto che i migranti si muovono perché non hanno altra scelta, è che i migranti sono una merce, è una merce preziosissima, da vari punti di vista, da molti punti di vista. Una per esempio garantiscono comunque un fortissimo reddito politico, in termini proprio di consensi, a tutti coloro che fanno leva sulla paura e sulla ignoranza, sulla vigliaccheria della gente. Cioè i migranti pagano politicamente. Un altro motivo per cui i migranti sono una merce preziosa è che sono un perfetto diversivo per tutte le politiche di sostegno a questa economia di rapina che sta sfruttando tutto lo sfruttabile. Per tirla in Italia, adesso ultimamente leggere i giornali, vedere i Tg, si parla delle barche, dell'ONG, si parla dei rom, dei censimenti, dell'ultima infamità, questi censimenti che vogliono fare i rom. Però il tema dell'ambiente, della tutela dei diritti, il tema della casa, li avete più sentiti? Sono scomparsi completamente dall'agenda politica. Questo fa comodo. Cioè questo è un regalo che i migranti fanno a certe persone. Che fa comodo che le cose continuino così. Terzo punto. Sono una forza del lavoro. Una forza del lavoro non indifferente. È ricattabile senza diritti. Ma in alcuni casi proprio potremmo direttamente parlare di schiavitù. In Messico mi ricordo che venivano addirittura venduti ai mercanti degli organi. Cioè i migranti passano lì, la polizia seleziona quelli che gli fa più comodo e li vendono ai mercati degli organi oppure addirittura li vendono ai narcotraffico che lo utilizza come caprio spiatorio. Cioè c'è un delitto, qualcuno deve andare davanti al giudice perché i giornalisti rompono le balle. E infatti il Messico è il posto dove ammazzano più giornalisti mentre la Turchia è il posto dove incacerano di più. Sono i due posti che poi anche la Turchia... La Turchia paradossalmente è anche il paese che accoglie di più, che riceve più migranti. Poi parleremo anche di questo in maniera approfondita. Potremmo parlare di Raffaello di questo. Lo dicevo insomma che vengono proprio venduti come capri spiatori. C'è un delitto, arriva il narcotraficante e non può finire in galera perché è il kill e perché di solito anche fa parte della polizia perché purtroppo lì in Messico queste cose succedono. E arriva il primo migrante che non parla neanche la lingua spagnola molto bene e viene incarcerato e condannato per un omicidio che non ha commesso. Cioè vengono comprati e venduti per queste cose qui naturalmente. Poi c'è il discorso della forza... Anche a Rosario le cose sono come ci parlerà poi Matteo sono molto più semplici e vengono semplicemente usate come forza lavoro dove la crisi è ormai diventata un cremaldello per scardinare tutte le privatizzazioni dei servizi l'abbattimento delle garanzie sindacali trasformare il reddito in reddito i pochi beni comuni che sono di tutti fanno un reddito di pochi e questo sempre i migranti giocano giocano a favore di questo sistema così sregolati come arrivano insomma. A questo punto... Allora io credo che tu abbia già dato... Aspetta... Credo che tu abbia dato un po' uno spaccato di quello che si parlerà... di cui si parlerà stasera e poi presenteremo anche gli ospiti che sono qui con noi in studio che ci hanno raggiunto Ricordiamo che siamo in diretta radio su Radio Sherwood potete sentirci su www.sherwood.it e oltre che discutere e approfondire tutta una serie di questioni che tu hai già annunciato ascoltiamo anche della buona musica e lancio il primo brano che è Caparezza che suonerà il 29 giugno qui allo Sherwood Festival con Io vengo dalla luna Ritorniamo in studio con il nostro primo ospite sono molto contenta di salutare Raffaello Ciao Raffaello Ciao a tutte e ciao a tutti Raffaello Rossini del progetto Borders of Borders è il regista di un progetto collettivo che è stato La Merce Siamo Noi un interessantissimo documentario di cui appena ci parlerà fra poco Raffaello sei appena tornato dal paese dei Cedri dal Libano dove avete appunto portato una carovana che è stata una collaborazione come già dicevo prima tra Melting Pot Yabasta e Borders e niente volevo solo dirti che sono molto contenta che tu sia tornata a trovarci dopo la mostra che avevi portato qui l'anno scorso allo Sherwood Festival Bene, ciao Raffaello Ciao Riccardo Sabe un piacere vederti naturalmente Anche per me Naturalmente hai fatto questo bellissimo documentario La Merce Siamo Noi dove sei andato in Turchia Turchia è uno dei paesi che accoglie più migranti ecco tu dalla Turchia di che impressione ne hai avuto? Com'è questa accoglienza? Dunque ovviamente non mi sono ritrovato per caso in Turchia fa parte di un processo di un viaggio che aveva già trovato le sue basi proprio in Grecia grazie anche alla carovana Over the Fortress momento in cui ho conosciuto proprio Andrea Panico Acaro che è stato poi il referente principale di questo progetto che ha pensato proprio di muoversi e con un piccolo team appunto abbiamo raggiunto Gaziantep nel sud-est della Turchia proprio per monitorare le conseguenze più o meno visibili di quegli accordi tra comunità europea e Turchia presi appunto precedentemente e dunque la situazione che abbiamo trovato è variegata ovvero cioè parte ovviamente dalla dalla propaganda di Ankara che quindi di Erdogan che richiama quasi la fratellanza al popolo siriano e di conseguenza loro si ergono come salvatori in qualche maniera e allo stesso tempo poi è evidente invece la manipolazione che appunto la stessa Ankara fa di questo flusso migratorio nei confronti proprio dell'Europa stessa richiedendo mano libera in determinati spazi insomma sappiamo tutti che quel muro che poi abbiamo abbiamo avuto modo di vedere in costruzione divide delle zone molto diciamo importanti e non solo in relazione alla guerra in Siria la guerra civile in Siria ma insomma è Rojawa e di conseguenza un muro di cui insomma bisognerebbe approfondire un attimo un muro oltretutto di 911 km quindi è una barriera anche architettonica molto imponente assolutamente la prima volta che ne ho sentito parlare è stato appunto in Grecia da questa signora madre di bambini che ci mostrava i disegni dei propri figli e i disegni mostrano proprio un muro sul quale stavano dei soldati e questi soldati sparavano insomma è stata la testimonianza diretta di bambini che ci hanno mostrato proprio visivamente graficamente l'esistenza di questo muro che ci ha spinto ancora di più a cercare di monitorare la situazione ciò che abbiamo trovato nel sud estra della Turchia è una soprattutto in riferimento all'introduzione di Riccardo ovvero il migrante visto come opportunità economica tant'è vero che appunto il documentario si intitola la merce siamo noi è una sorta di interrogazione che ognuno di noi dovrebbe fare proprio perché ognuno di noi potrebbe essere un migrante un giorno ognuno di noi quindi potrebbe poi ritrovarsi all'interno di questi meccanismi di sfruttamento che si è andata a depositare su una situazione già di per sé abbastanza problematica parlo soprattutto per il lavoro ecco che quindi ci siamo ritrovati all'interno di laboratori soprattutto legati all'industria tessile diciamo un'area di interesse nella quale la Turchia sta eccellendo proprio ultimamente rivaleggiando con Bangladesh e altre realtà quindi il lavoro in nero minorile che già presente all'interno di questo contesto turco e particolarmente nel sud-est è stato in qualche modo rimpiazzato comunque ha trovato una sorta di concorrenza con come si dice proprio grazie o a causa dell'arrivo di profughi siriani e di conseguenza minori siriani Raffaello scusami visto che siamo una radio come dire libera indipendente e molto di parte ci sono dei marchi italiani che appunto lavorano in Turchia e dove c'è la prova di sfruttamento anche minorile all'interno di queste aziende allora per esperienza nostra diretta ciò non è stato possibile fare delle ricerche da questo punto di vista perché semplicemente ci è stato detto a ripetizione da diverse persone ma anche coinvolte quindi che non avevano alcun interesse a dire qualcosa piuttosto di altro che le etichette cambiano sostanzialmente quindi io posso essere nel laboratorio famoso del sud-est turco fare un paio di pantaloni abbiamo visto preso nota di alcune marche ma ci hanno detto non è inutile che fate ricerca su queste marche perché tanto comunque noi le stacchiamo le etichette mandiamo il vestiario a chi di dovere parlavano di Russia Europa Stati Uniti e questi ci aggiungono le loro etichette tant'è vero che nel nel reportage scritto invece che ha realizzato Andrea Io non ho sogni c'è proprio invece una ricerca che ha fatto lui poi a posteriori analizzando proprio i CNM e i grandi marchi come quanto controllano effettivamente la filiera affinché sia insomma etica almeno senti Raffaello tu dalla Turchia hai continuato a seguire al ritroso le orme dei profughi siriani e sei finito ti ho accompagnato anch'io in Libano è stato un viaggio bellissimo mi ricordo che siamo andati nella valle della Beccà insieme che è proprio coperta da tendoboli di profughi siriani anche qui i profughi sono una merce non una fonte di reddito per chi gli affitta i terreni giusto esattamente allora ci tengo a sottolineare che io non sono border sono border sono border insieme a gloria che purtroppo non è non è potuta venire questa sera la salutiamo salutiamo gloria se mi permettete questa cosa che comunque sicuramente ci sta ascoltando e assolutamente è stato uno dei primi aspetti che ci ha colpito ovvero che in un clima direi quasi neanche di non so come definirla di protesta o di di chissà cos'altro tutte le persone che abbiamo incontrato che fossero appunto nei vari campi informali che abbiamo trovato nella becca ma anche all'interno di Beirut in diversi quartieri non è neanche visto come un effettivo problema da chi vive questa questa esperienza questa situazione stiamo parlando di famiglie sostanzialmente insediate sul territorio libanese ormai da 5-6 anni perché stiamo parlando dei rifugiati della primora quindi chi è scappato proprio nel momento in cui il conflitto ha appena cominciato per non ritrovarsi a combattere o da una parte o dall'altra e si ritrova all'interno di un paese che non non riconosce alcun diritto per i rifugiati in quanto non non è firmataria del come si dice il termine comunque non è firmataria del protocollo comunque del protocollo di Ginevra sui diritti dei migranti quindi sui rifugiati scusate teni presente scusami che non le censisce nemmeno dopo un milione e mezzo si sono fermati e hanno deciso di non censirli in più cosa di cui si occupava l'UNHCR e tra i vari motivi per cui ha smesso è perché si è resa conto che è impossibile non solo fare un censimento delle persone che entrano in Libano ma anche fare un censimento delle persone che nascono in Libano quindi vediamo dei campi che dove ci sono dei figli di nessuno sostanzialmente figli che non sono registrati in nessuna anagrafe libanese e che sono semplicemente registrati all'interno di un'anagrafe se possiamo così definirla del campo e lì sì abbiamo trovato delle persone che con le loro diciamo con la loro forza contrattuale se possiamo dire così si sono interfacciate con i privati libanesi di volta in volta sia per la questione abitativa ovvero per trovare uno spazio dove poter costruire la propria situazione abitativa sia a livello lavorativo quindi normalmente le persone che affittano il terreno perché affittano ovviamente perché stiamo parlando di contratti tra privati che affittano il terreno ai migranti sostanzialmente spesso sono anche i datori di lavoro dei migranti stessi quindi per in qualche modo pagati con delle cifre irrisorie anche perché appunto stiamo sempre parlando di contrattualità in nero sostanzialmente non regolamentata da nessun tipo di istituzione di conseguenza è facile trovarsi in queste dimensioni di svantaggio ovvero dove c'è una figura una persona stanziale residente in Libano che appunto prende degli accordi sicuramente svantaggiosi per chi arriva traendone vantaggio stiamo parlando di zone molto di la valle della becca soprattutto sono una frase che ho sentito che mi ha colpito molto io ieri coltivavo patate e oggi coltivo migranti perché stiamo parlando di famiglie intere famiglie con grandi appezzamenti di terreno che hanno sempre vissuto di agricoltura tabacco patate eccetera eccetera con insomma delle entrate di un certo tipo che invece si ritrovano ad avere questa entrata che e qui concludo che poi sostanzialmente è una bolla perché nel senso stiamo si stanno verificando delle situazioni lavorative che non è detto che siano continuative perché se tu poi destini il tuo spazio che è sempre stato un terreno agricolo alla costruzione di case per quanto baracche il tuo terreno perde di valore nel momento in cui il migrante e quindi la tua cassaforte non c'è più sei un attimo nella merda perché comunque già vieni da una situazione di povertà ti sei creata una bolla economica perché è di questo che si tratta in un non regolamentata e di conseguenza il pericolo che poi ci smenino tutte e due sostanzialmente sì assolutamente poi oltretutto tutte le cose che ha detto Raffaello le potete trovare su Melting Pot dove c'è un bellissimo reportage di diversi articoli che raccontano tutti questi aspetti che appunto raccontavi io ti voglio fare una domanda velocissima proprio 30 secondi tu sei una persona che racconta delle storie ci sono tanti modi per raccontare delle storie che vanno dallo scrivere articoli dallo scrivere un libro tu lo fai attraverso le immagini appunto dicevamo prima che sei un regista quest'ultima carovana che è stata fatta è stata fatta in Libano e avete come dire raccolto il momento delle elezioni l'8 maggio ci sono state le elezioni come hai visto questo paese ma guarda visto che rispondo brevemente rispondendo come risponderebbe Gloria quindi mi ricordo che è stata una sua osservazione che ho trovato molto pertinente ovvero che noi siamo arrivati in Libano e a Beirut senza conoscerlo senza esserci mai stati grazie alle elezioni noi chiamando questa missione fragile mosaico che appunto cercando di evidenziare il mosaico che si regge su una fragilità di base mosaico ovviamente di confessioni di provenienze eccetera ecco il mosaico c'è anche dal punto di vista politico e quindi entrando a Beirut durante le elezioni è stato un po' come entrare non so al mio paese quando c'era il palio perché sai che quella zona ha le bandierine verdi quell'altra zona ha le bandierine blu e quindi capisci immediatamente se sei in un quartiere sciita se sei in un quartiere maronita se sei in un quartiere sunnita anche perché poi i partiti in Libano vanno di pari passo con le confessioni religiose di conseguenza c'è questo impianto politico per cui appunto la religione va di pari passo con la politica ecco questo oltre a tutte le varie analisi che potremmo fare ci ha regalato l'opportunità di mappare Beirut fin dall'inizio arrivando con tutti questi standardi bandiere eccetera eccetera dei vari colori che ci rappresentavano e di conseguenza ci davano uno strumento in più per analizzare quello spazio quella geografia noi ringraziamo Raffaello è stato veramente interessante quello che ci hai raccontato andiamo avanti con la musica ricordiamo appunto venerdì 22 giugno suonerà Quick Oits e vi lasciamo con La musica non c'è Farti scivolare addosso questo mondo infame mettermi fra te cento lame mentre cerco il mare penso non avrebbe senso fare un tuffo immenso nuovo ospite qui in studio ciao Marta Marta Peradotto di Carovane Migranti ciao è un piacere averti qui con noi diciamo che negli ultimi giorni un po' mi ricollego a quello di cui poi ci parlerà anche Marta su tutti i canali mainstream sta facendo molta notizia la decisione di Trump con poi smentite conferme di separare lungo il confine che è appunto uno di quei muri uno di quelle frontiere che c'è tra il Messico e gli Stati Uniti di separare i bambini dai loro genitori quindi siamo entriamo proprio anche nell'attualità e parliamo anche di che cosa poi parleremo anche di che cosa poi sta succedendo ai nostri adesso in questi giorni sì perché Marta fa parte ciao Marta naturalmente ciao fa parte di Carovane Migranti e sta preparandosi per andare in Messico dove abbiamo scoperto di avere un'amica comune Anna Enamorado che è una rappresentante del movimento mesoamericano che raccoglie una madre in cui il figlio è stato scomparso durante il passaggio alla frontiera e che è andato proprio alla ricerca del figlio insomma hanno fatto una mostra molto interessante Wellias della Memoria Orbe della Memoria che abbiamo portato anche qui a Sherwood nei nostri spazi veneziani ecco tu stai per andare lì però prima mi hai detto che sei andata in Tunisia ecco e quindi in Tunisia vorrei chiederti intanto tu hai parlato con le madri dei migranti morti in mare cosa ti hanno raccontato come si vede le migrazioni dall'altro lato di chi le subisce solo e perde una persona cara Sì ecco noi quest'anno siamo partiti appunto il 23-24 aprile da Torino la maggior parte di noi ma alcuni anche da Bergamo da Roma da altre parti d'Italia e abbiamo fatto una prima tappa a Catania dove abbiamo gli amici e i compagni della rete antirazzista catanese abbiamo fatto il 25 aprile con loro e poi siamo partiti alla volta della Tunisia e lì abbiamo avuto modo di conoscere molte delle famiglie in posti diversi della Tunisia in varie tappe di famiglie che hanno avuto dei familiari in particolar modo dei figli dei ragazzi giovani che sono partiti dopo la primavera arabe diciamo quindi dal 2011 a seguire e che continuano a partire dalle coste tunisine alla volta dell'Europa dell'Italia e molti di loro non la maggior parte direi non fanno ritorno o perché finiscono tragicamente in mare e annegati o perché pare siano arrivati insomma sono stati riconosciuti in alcune ferme immagini in alcuni video di telegiornali italiani ma non si sa più nulla di loro dal momento in cui sono arrivati sulle nostre coste e lì in Tunisia questa è la quarta carovana per i diritti dei migranti e la dignità e la giustizia che organizziamo col gruppo di carovane migranti e in Tunisia abbiamo un partner molto importante un compagno tunisino che è Imed Soltani che è portavoce lui si definisce dell'associazione Ter Purtu e lui ci ha ospitati quest'anno là e grazie a lui ci abbiamo potuto incontrare proprio di persona i familiari gli amici i fratelli e sorelle delle vittime della migrazione dalla Tunisia e siamo stati in vari punti per cui siamo partiti da Tunisi siamo passati a Raf Raf vicino a Bizert poi siamo andati a Biralafei vicino a Sfex a Vigiliana e a e a Zarzis e in ognuno di questi posti l'impressione che abbiamo avuto fortissima è di toccare con mano proprio il dolore di queste persone che è un dolore ancora molto fresco rispetto per esempio al paragone con il Messico con mi è piaciuto l'essere fatto scomparire fatto scomparso ma non scomparso ma proprio fatto scomparire da un sistema che è quello che ci ha sempre preoccupato di poter poi vivere vivere qui essendo anche noi una terra di passaggio di confine di frontiera cioè il fatto che in qualche modo lo Stato sfruttasse gruppi di criminalità organizzata e li facesse propri e ci chiediamo se anche questi ragazzi sono stati fatti scomparire appunto in qualche modo o comunque se c'è una responsabilità una complicità dei governi e le famiglie che abbiamo incontrato appunto erano ancora nella fase direbbero i nostri compagni messicani delle lacrime non quella della lotta la stanno costruendo la vogliono costruire in collaborazione con un movimento internazionale perché probabilmente è importante anche riuscire anche se difficilissimo immagino uscire dalla dimensione individuale per costruire quella collettiva di richiesta di risposta e di giustizia e trasformare le lacrime in rabbia e poi in lotta una tappa diciamo importante del viaggio è stata sicuramente quella di Zarzis perché a Zarzis abbiamo avuto modo di rivedere anche una solidarietà dal basso spontanea di attivismo tunisino rispetto al tema della migrazione per esempio subsahariana con partenza dai porti della Libia verso le coste tunisine infatti la Tunisia non è solo terra di emigrazione ma è sicuramente anche terra di immigrazione terra dove scompaiono a loro volta dei ragazzi per esempio dall'Algeria ma dove arrivano purtroppo molto spesso corpi che partono dalla Libia e che col vento vengono portati sulle coste tunisine abbiamo parlato con questi pescatori mi ricollego a quello che diceva Raffaello prima una frase che mi ha colpito cioè prima coltivavamo patate oggi coltiviamo migranti ecco i pescatori paradossalmente ci hanno detto la stessa cosa prima pescavamo pesci e oggi purtroppo peschiamo persone così come le patronasi in Messico hanno cambiato la loro vita per fare qualche cosa di umano così anche loro ci hanno detto noi restiamo semplicemente umani ma restare umani ci ha portato a perdere il 75% della produttività economica non possiamo più pescare ci hanno circoscritto la zona di pesca per cui le acque sono diventate di proprietà della Libia quelle acque che erano prima tunisine e loro dal 2016 di aprile 2016 hanno salvato 9000 vite ovviamente correndo chiaramente al rischio di essere criminalizzati per favoreggiamento e tutto quello che tristemente sappiamo insieme a loro altre due persone importanti a Zarzisse sono state Cham Sedin e Mossen Cham Sedin ha creato un cimitero degli sconosciuti raccogliendo proprio i corpi cadaveri che arrivavano sulle spiagge di persone che arrivavano dall'Africa subsahariana e interrandone più di 450 corpi in quello che purtroppo al momento è una fossa comune per cui ci vorrebbero probabilmente più mezzi più forze per trasformarlo e dare degna sepoltura a questi corpi nelle immagini si vedono appunto il momento in cui abbiamo reso omaggio in qualche modo c'è un solo nome di una ragazza che è stata trovata e morta sulla barca dei soccorsi quindi era ancora viva per cui si è conosciuto il suo nome e il paese di provenienza ma tutti gli altri rimangono per ora privi di possibile identificazione e le famiglie non sanno probabilmente neanche che sono lì l'ultimo personaggio diciamo carismatico importante conosciuto da Zarzisse è Mossen che si definisce libero pensatore e che ha creato il museo della memoria del mare un museo che è nato con il corpo diciamo di Rosemary il museo della memoria del mare è nato con un intento ecologico nella fine degli anni 90 lui semplicemente con un gruppo anche di bambini della città è andato sulle spiagge sulle coste a ripulirle da tutto ciò che veniva portato di rifiuti dal mare plastica bottiglie di vetro eccetera a un certo punto ha iniziato a trovare resti di oggetti di storie di persone che a volte purtroppo anche persone però anche solo giubbotti di salvataggio giocattoli scarpe e ha deciso di dedicare una storia una poesia un racconto a ognuno di questi oggetti ripulendoli e creandoli questo museo che tra poco vedete nelle foto questo per quanto per quanto riguarda mi citavi tu Anna Ennamorado e Anna ha partecipato a due carovane fa quindi alla seconda carovana è una grande amica e ha portato in Italia Weas della Memoria l'anno scorso quindi questa mostra di scarpe delle persone che cercano i loro familiari scomparsi in tutta la zona del Mesoamericana e insieme a lei la mostra è stata presentata a Torino l'anno scorso da Guadalupe Perez Rodriguez figlio di una di una vittima di sequestro uno scomparso degli anni 90 lui è venuto con noi in Tunisia insieme a lui è venuta Marta Sanchez che è la presidente del movimento migrante mesoamericano Marta Sanchez ha fatto una proposta ai familiari alle madri tunisine che abbiamo incontrato cioè le ha invitate al forum mondiale della migrazione che si terrà a novembre il 2-3-4 novembre in Messico quest'anno a cui siamo stati anche invitati e sei famiglie sei donne sei madri avranno la possibilità di condividere la loro esperienza di perdita di un figlio con madri da tutto il mondo e avranno la possibilità di partecipare anche alla cumbre della Smadres che è il vertice delle madri del movimento mesoamericano senti tornando anche alle muri che abbiamo all'interno della comunità europea la frontiera con la Francia non è una frontiera per noi perché ci passiamo tranquillamente però è una frontiera per i migranti hanno anche delle frontiere interne che sono fatte lì apposta sono rimaste solamente per loro tu mi dicevi che la quarta carovana italiana per diritti di migranti è passata la fine anche per ventimiglia sì infatti noi di ritorno dalla Tunisia siamo ritornati appunto non da soli perché ci hanno seguito i Medesoltani Suad la mamma di un ragazzo scomparso e Marta Sanchez e Guadalupe Perez Rodriguez sono venuti con noi abbiamo attraversato il nostro confine quindi la parte appunto italo-francese per cui stiamo passati partendo da dei territori piemontesi da Alba da Saluzzo e siamo passati per per Ventimiglia dove abbiamo incontrato i compagni di Ventikappa dal proposito ricordo che il 14 luglio ci sarà una manifestazione importante promossa dal gruppo di Ventikappa Ventimiglia in solidarietà con i migranti e i transitanti di lì e siamo stati ospiti nel bar di Deglia che è una persona straordinaria e come pescatori l'ispatronas molto molto semplice e siamo poi arrivati fino a Bardonecchia al presidio Jesus a Clavier per terminare con i compagni di Tumi Grande e di Val Suso oltre confine e Brisele Frontier anche a Brianson un confine abbastanza caldo anche quello abbiamo visto quello che è successo questo inverno certo e che purtroppo in qualche modo anche nel momento in cui siamo passati lì per cui era già primavera continuava a succedere perché siamo arrivati proprio il giorno dopo il ritrovamento del cadavere di questa ragazza caduta o comunque annegata nel fiume tentando di passare la frontiera e tra l'altro appunto è stato molto significativo vedere come Suad la mamma che viaggiava con noi tunisina si portava dietro con sé la foto del figlio e in qualche modo attraverso provocava un brivido diciamo attraversare questi sentieri dove lei immagina possa essere passato magari no magari sì suo figlio nel momento in cui non ha più saputo nulla ci tenevo giusto a dire diciamo come ci siamo lasciati come abbiamo finito questa carovana pronto terminando a Brian Son non vogliamo che questo rimanga un viaggio di turismo solidale o di conoscenza vogliamo portare avanti il discorso rientra negli obiettivi che ci diamo come gruppo e nella collaborazione con appunto la rete di lotto dal basso che si sta creando di cui siamo testimoni oggi e quindi oltre al risultato della collaborazione col Messico dell'invito del Messico rispetto alla Tunisia a partecipare al forum abbiamo idea di creare con i familiari con le madri tunisine un registro degli scomparsi che nasca però dal basso e quindi dove si raccolgono non solo come già avviene dei dati ufficiali di nome la data di nascita eccetera ma tutto il vissuto il contesto emotivo non per ribadire ricalcare la sofferenza in qualche modo ma per trasformarla in impegno e portare oltre alla persona che è scomparsa anche tutto il contesto che l'ha spinto a partire la motivazione questo registro verrà probabilmente fatto a partire proprio con la collaborazione con le persone di lì e un'altra cosa che è già stata creata è Ways della Memoria tunisina per cui Med Soltani nel suo garage ha ricreato quello che Guadalupe gli aveva mostrato rispetto al Messico e questo è anche un risultato già ottenuto importante un altro risultato che proprio in questi giorni le famiglie stanno cercando di portare a termine le famiglie soprattutto dei neofragi del 2012 e quello di scrivere al sindaco di Lampedusa per chiedere di riesumare i corpi i cadaveri e di fare l'analisi del DNA per identificare i corpi che sono a Lampedusa e che non hanno ancora nome e potrebbero appartenere ai loro figli io ti ringrazio per essere stata qui con noi ascoltiamo un altro brano clandestino di Manu Ciao siamo ritornati in studio con il nostro ultimo ospite Matteo De Checchi ciao Matteo noi ci conosciamo anche molto molto bene mi fa molto piacere averti qua in studio tu stai portando avanti con il collettivo Mamadevo un bellissimo progetto giù a Rosarno e io ti chiedo immediatamente di spiegare ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici di che cosa si tratta che cosa avete fatto lungo tutto questo inverno ma diciamo che direi il progetto in realtà è durato più o meno un anno abbiamo cercato una collaborazione con un gruppo di architetti sparsi un po' tra il Trentino e il Veneto e un'associazione di progettazione insomma di roveretto e ci siamo impegnati attraverso crowdfunding e donazioni private a costruire una struttura una struttura che poi abbiamo denominato appunto hospitality school da portare al di fuori di quella che è l'attendopoli di Rosarno magari poi appunto avrò modo di raccontare che cos'è oggi Rosarno e fuori da quello che è il ghetto di Rosarno quindi per non legittimare direttamente queste situazioni ma per dire ci siamo questa struttura tra il resto è stata costruita da diversi richiedenti asilo del Trentino e la struttura oggi è usata da praticamente quasi tutte le realtà che lavorano all'interno del ghetto e fuori dal ghetto perché la situazione di sfruttamento non è solo ed esclusivamente all'interno del ghetto di Rosarno ma direi in tutta la piana di Gioia Tauro e quindi solo per nominarne alcune lavora Emergency lavora Medu Medici per i diritti umani lavora una scuola di italiano che due tra volte la settimana porta avanti dei corsi di alfabetizzazione lavorano alcune cooperative di Raggio Calabria e la struttura in questo momento è un punto centrale un punto di raccordo tra tutte queste realtà che a dire la verità faticavano molto a parlarsi sì quando si legge nei media nei giornali i fatti di Rosarno si tende a pensare che questi fatti siano in qualche modo circoscritti ai campi alla Reggio Calabria al sud profondo insomma ecco pure in qualche modo venga viene insomma letta come una storia di caporalato e di sfruttamento insomma a livello molto molto basso ma voglio dire non c'è una responsabilità anche a livello più elevato per esempio della grande distribuzione ma allora la responsabilità parte dalla grande distribuzione quando noi parliamo della grande distribuzione stiamo parlando di fatto dei grandi supermercati delle grandi catene ne nomino alcune la cop su tutte quando la cop racconta la cop sei tu sei tu sì ma poi la frutta e la verdura la far accogliere dai braccianti principalmente africani il punto principale di questo sfruttamento è proprio la grande distribuzione organizzata in Calabria ovviamente in particolare a Rosarno questa situazione è una situazione che convoglia una serie di dinamiche particolari quindi c'è sicuramente lo sfruttamento della grande distribuzione in particolare nella raccolta degli agrumi ma c'è lo zampino chiaramente dell'Andrangheta Rosarno e San Ferdinando che sono i due comuni che si spartiscono in qualche modo il Ghetto e la Tendopoli e il Campo Container da decenni ormai hanno il consiglio comunale sciolto per mafia oggi per fortuna non a San Ferdinando c'è anche la volontà di alcuni in particolare dei grandi proprietari di mantenere questo sfruttamento chi va a raccogliere le arance a 15-20 euro al giorno oggi lo possono fare solo ed esclusivamente i braccianti africani che loro pensano che in qualche modo possano restare invisibili ma noi abbiamo proprio cercato anche attraverso Malteampot anche attraverso questa struttura di raccontare la loro storia e continueremo a farlo ovviamente tu lo accennavi prima Rosarno comunque molto spesso sulle prime pagine dei nostri giornali ricordiamo anche uno degli ultimi avvenimenti del 27 gennaio proprio di quest'anno quando una donna purtroppo è morta nella sua baracca nella tendopoli di San Ferdinando e quindi ti chiedo com'è la situazione a Rosarno e come attraverso questo progetto quello che state portando avanti voi ma magari anche altri progetti si può cercare di migliorare un po' quella che è la situazione laggiù ma allora in questo momento nel comune di San Ferdinando nella zona industriale semi abbandonata di San Ferdinando esiste una tendopoli che è questa appunto in foto che è stata costruita molto velocemente tra maggio ed agosto dell'anno scorso il 18 agosto è stato fatto un trasferimento perché davanti alla tendopoli c'è quello che viene comunemente chiamato il ghetto di Rosarno in realtà non è a Rosarno direttamente il ghetto ma si trova appunto nel comune di San Ferdinando i numeri delle persone che vivono tra la tendopoli e il ghetto sono numeri assolutamente ballerini quindi non abbiamo in questo momento la possibilità di dire quante persone possono vivere sono tante comunque durante la stagione che normalmente finisce ad aprile ghetto e tendopoli raccolgono almeno 2500 persone poi c'è una fabbrica occupata ci sono una serie di casolari agricoli abbandonati vivono in una situazione insomma che va oltre il dramma a volte noi spesso negli articoli appunto che abbia scritto su Melting Pot abbiamo parlato proprio dell'inferno di Rosarno le istituzioni danno risposte a volte da campeggio appunto che sono queste quindi mettiamo ancora delle altre tende e aspettiamo a volte come è successo appunto a fine aprile dando dei decreti di espulsione per ora non stanno parlando di sgombero l'unica soluzione per togliere queste persone da questo dramma quotidiano è quello di lavorare su un'accoglienza diffusa si può fare si può fare perché nella piana di Gioia Tauro c'è la percentuale più alta di taglia di case sfitte e spesso e volentieri abbandonate perché la piana di Gioia Tauro ha conosciuto un'emigrazione fortissima dagli anni 60 che continua ancora oggi quindi le case ci sono si può pensare a un'accoglienza diffusa è chiaro che manca la volontà politica e purtroppo probabilmente c'è una fortissima pressione da parte della criminalità organizzata che vuole mantenere quel posto a tratti può essere invisibile perché a due chilometri e mezzo di linea d'aria dal ghetto di Rosarno c'è appunto il porto di Gioia Tauro e dal porto di Gioia Tauro dovevano farci passare tutto quindi intanto parliamo del ghetto e dei morti del ghetto tu Anna prima nominavi appunto Becchi che tra il resto è morta in una maniera assolutamente quasi inenarrabile è morta bruciata hanno capito dopo qualche giorno di chi si trattava appunto perché era completamente carbonizzata e lei usciva da un esempio importantissimo invece calabrese perché altrimenti non voglio raccontare appunto la Calabria solo su Rosarno lei usciva dall'accoglienza di un grande sindaco che è Mimmo Lucano cioè dall'accoglienza di Riace l'ultimo morto purtroppo lo contiamo qualche settimana fa appunto un bracciante africano che è in assoluta correlazione la morte di Satchco appunto rispetto allo sfruttamento che purtroppo permane ed è presente nella piana io ti ringrazio tantissimo per il tuo intervento faccio un bocca al lupo per la continuazione anche di questo progetto perché so che comunque continuerete come collettivo Mamaduo ad andare giù a Rosarno e monitorare anche attraverso i vostri racconti che trovate sempre su Molte in Pot com'è la situazione saluto anche Riccardo noi lanciamo l'ultimo brano che è dei Pancreas che suoneranno qui a Sherwood il 30 giugno Polente Kebab attraverso l'ultimo brano 기다�iazza 4 tornati l'ultimo brano che racconti ultimo brano lo lo la la non as pi